Quando fu stampato a Lucca nel 1726, il libro dell'agricoltore sperimentato fu quello che oggi definiremmo un bestseller. In poco tempo il volume, scritto dal pistoiese Cosimo Trinci, venne ristampato in numerosissime copie, diventando un testo base per tutti coloro che in Italia e nel resto d'Europa si occupavano di agronomia. A distanza di 287 anni, il volume, di quello che non fu un letterato ma un agricoltore appassionato delle lettere, è stato ristampato, accompagnato da un'edizione critica composta da saggi e scritti di docenti e studiosi. Il libro a cura di Galileo Magnani, pesciatino, docente di scienze agrarie all'Università di Pisa, è stato presentato alla sede della Fondazione Caripit che ne ha promosso la riedizione insieme all'Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia dell'Università di Firenze. La ristampa del libro di Trinci è soltanto il primo passo di un più articolato progetto dedicato ad illustri pistoiesi. Progetto di riscoperta, di valorizzazione, quindi di ristampa e di rimessa a disposizione del pubblico di opere di autori pistoiesi, essenzialmente scienziati, giuristi, esperti in vari settori, diciamo non letterati, del Settecento e dell'Ottocento che hanno lasciato un segno nei campi che hanno coltivato. Nel nostro programma ci sono sei titoli di autori oppistoiesi ma non soltanto del territorio, per esempio il prossimo libro riguarderà un testo di un giurista pesciatino, Galeotti e così andremo avanti. È previsto un nuovo libro di Egidio Pollacci che è un altro eminente personaggio che era nato a Casalguidi. Quindi la riscoperta di persone che hanno lasciato traccia con i loro studi, con le loro opere scientifiche inevitabilmente datate, quale più quale meno, ma che conviene riscoprire per rinsaldare e anche alimentare le nostre radici.